Un vasetto con una stellina di Natale e un biglietto, spero che Loris ti fa compagnia. Una mano commossa 24 ore dal dramma di Numana saluta così Cristian, morta a 5 anni, per mano del papà, mentre per il fatto di Ragusa è accusata la mamma. Un pensiero appeso alla ringhiera della villetta di via Urbino a Marcelli, dove martedì mattina è esplosa la follia di Daniela Antonioni, 38 anni. Lui e la moglie Paola, 28 anni, romena da 10 anni in Italia, si stavano separando, non vivevano più insieme. Daniele, operaio con la grande passione per le armi, è andato nella casa della coppia, dove ora viveva lei con il piccolo. Li ha uccisi entrambi, con diversi colpi di pistola, la stessa con la quale si è tolto la vita. Non vivevano più insieme da alcune settimane e lei temeva la reazione di lui, tanto che martedì mattina aveva chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati, il dramma si era già consumato. Le tre salme sono al nosocomio regionale di Torrette, in attesa dell'autopsia, prevista per giovedì. Lui non avrebbe accettato la separazione dalla moglie, della quale sarebbe stato molto geloso. I più però rivolgono un pensiero a quel bimbo che non c'entrava nulla, disperati i nonni paterni che hanno ricevuto la visita del parroco del paese. I nonni erano dispiaciuti per il bambino, soprattutto scoraggiati per questa situazione, insomma, che dovevano lasciare almeno in pace in vita il bambino. Nel comune numanese si respira un'aria sospesa, spente le luminarie del Natale, per i tre giorni di lutto cittadino indetto dal sindaco. Un dramma di tutti. Il piccolo comune riverasco, meta delle vacanze d'estate, d'inverno si ritrova. Sono quasi tutti parenti, cugini di sangue o per vocazione turistica, dietro un bancone o dentro la cucina di un ristorante. Un dramma della porta accanto. Era lui, era una persona conosciuta, non ci aspettavamo assolutamente un gesto di questo genere. Era venuto qui un mese fa a parlare con me, però non lasciava assolutamente un gesto. C'è l'impressione di dare un gesto così folle. Mi è sembrata una persona normale, pacata, tranquilla. È un qualcosa che ci lascia completamente turbati e credo che non abbia una spiegazione scientifica o razionale, assolutamente. Un papà che adorava il figlio, perché questo è un dato che è emerso da tutti i commenti che hanno fatto i cittadini, che lo conoscevano.